Oggi è un'emozione straordinaria, una soddisfazione che parte da un lavoro di tanti anni, non è che questa cosa qua è calata all'alto oppure magari qualcuno ci ha regalato qualcosa. Ci sono 35 anni di lotte, di resistenza, di sacrifici e oggi siamo arrivati al punto di raccogliere i frutti che per tanti anni di lotta gli abitanti, donne e uomini, hanno urlato con forza che in questi posti era indescrivibile starci. 35 anni di storia e procedure, un anno e mezzo di fatti. Oggi si è aperto il cantiere per l'abbattimento della vela A, conosciuta come vela verde. Prima parte di un progetto successivo di demolizione anche delle vele C e D e di riqualificazione dell'intero lotto M. Una giornata di festa per tutti coloro che hanno contribuito attivamente al raggiungimento di questo risultato. Con il comune presente dal sindaco agli assessori Piscopo Bonanno e Panini, tutti coinvolti nella lotta per il riconoscimento del diritto all'abitare. Ci vorranno sei mesi di lavoro, partendo dalla pulizia delle aree esterne e dalla rimozione dei materiali accumulati all'interno della vela. Poi entreranno in funzione le potenti macchine demolitrici sui sedici piani ed infine la ricostruzione della viabilità, con due campi sportivi all'aperto, camminamenti pedonali, zone attrezzate, marciapiedi e parcheggi. Qui nel mondo c'è l'immaginario che vele è uguale Gomorra-Camorra. Invece qui c'è stata una grande resistenza popolare, veicolata soprattutto dal comitato vele, una capacità di lotta, di connettersi con un'amministrazione che ha creduto alla potenza dell'umanità di questi luoghi che ha vinto nonostante un degrado incredibile. Quindi oggi vince l'abbattimento e la riqualificazione. La Napoli della resistenza, della lotta, della giustizia, della connessione sentimentale tra rappresentati e rappresentanti e perde chi non si rassegna al fatto che Napoli non vuole vivere più di simbolismi del male. A Napoli c'è purtroppo il male e lo abbiamo visto anche in questi giorni per la vicenda terribile della piccola Noemi, ma oggi da Napoli ulteriormente viene fuori una voce forte, fatta non solo di grida ma di fatti. Perché non vi sfugge che arrivare a questo risultato è stato difficilissimo, sia perché è un percorso condiviso e partecipato. Questo progetto porta la firma del comitato vele, del dipartimento d'architettura dell'Università di Napoli e del comune di Napoli. Abbiamo dovuto interloquire con governi differenti, diffidenti, che pensavano in qualche modo che qua c'erano i brutti, sporchi e cattivi e invece c'era una pratica di resistenza, un laboratorio senza precedenti in Italia. I confronti sono stati tanti, la strada è ancora lunga, ma dobbiamo dare atto che quando Napoli si muove in questo modo è credibile, è forte, attrae investimenti e rispetto anche da parte del governo nazionale, anzi dei governi nazionali. Il governo Gentiloni che è quello che ha creduto e stamattina anche la telefonata della ministra Lezzi significa che qui si sta facendo un grande lavoro, infatti la ministra ha un grande rispetto, ha fatto i complimenti e ha detto che il governo è a disposizione per qualsiasi sostegno che dovesse essere necessario. Questo è un merito di Napoli, è il merito della credibilità di questa città che con umiltà e non con supponenza ha gridato al mondo intero che è da qui che si fa e si raggiunge la vittoria finale, perché quando si vince in questi luoghi e nelle periferie vuol dire che stai vincendo non una partita ma stai vincendo il campionato. I tempi sono quelli previsti dal contratto, dalle gare che sono state aggiudicate, le risorse economiche ci sono, la volontà è massima, il controllo popolare è garantito, l'impresa è motivatissima, ci sono tutte le condizioni per fare cose egregie. Tra l'altro non so se avete ascoltato le parole del progettista detto e qua anche con i tempi, siamo un esempio rispetto alle gare pubbliche del nostro paese, quindi chi pensa che a Napoli non si lavora, qua si lavora tantissimo, lo si fa con onestà, attraverso i lavori pubblici si è rotto il rapporto tra affari politiche e camorra, lavoreranno anche disoccupati di questi luoghi con le clausole sociali, quindi insomma sono giornate importanti per la nostra città ma sembra consentite per il nostro paese. Visto che ci hanno messo ogni volta questo bollino, vele, comorra, camorra, oggi è l'Italia intera che deve esultare, perché se si raggiunge questo obiettivo è l'Italia che attraverso Napoli fa un passo avanti contro il crimine. Nella battaglia contro il crimine questa città e questa amministrazione non è seconda a nessuna, nella lotta alla corruzione, nelle mafie, soprattutto quelli che stanno dentro ai palazzi. Io sono ottimista e sapevo quanto era importante questa lotta e quando però abbiamo dovuto convincere i governi nazionali che questo progetto meritava un investimento nazionale, là è stata dura perché poi il tentativo sempre di abbattere questa città e questa amministrazione c'è stato ma siamo stati più forti, quindi momenti proprio in cui ho pensato che non ce la facessimo no, però momenti difficili ne abbiamo avuti.